Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Firenze si segnalano due chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In A1 sono possibili disagi per una manifestazione all'uscita di Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo, un'entrata verso Genova e un'uscita provenendo da Genova. La statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa tra i chilometri 27, 28 e 500 a Villa Franca e Lunigiana a causa del recupero di un mezzo pesante incidentato caduto in una scarpata. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!